La Pana, attenzione, sentite già l'otorino, il profumino, chi vuole mangiare? Who wants to eat? Vai, non avete paura, se volete provare, non puoi mangiare. Sì, vai, italiano, potete sentire che qua si mangia la pasta anche a Dubai. Attenzione, maestro, chef, guardate qua, vorrei che io sono un buonio, potete sapere. Chef, da quanti anni fai questo messaggio? How many years of experience? Convienti anni di esperienza? Quantos anni di esperienza tienes? Quarant'anni. Quarant'anni, ragazzi, io ne ho tipo 24, non so più quattro. Quarant'anni, forti years, quarant'anni, facciamoli un applauso, signori e signori. Quarant'anni di passione, di cuore, e oggi è qui venuto per voi a prepararvi il nostro fantastico piatto italiano, la pasta italiana. Adesso andiamo a recuperare la prima parte e andiamo a fare un mix. Non va a me l'intenare, mi lancerai, tu non saprei averne a fare un alessé. Ecco te, vamos ora a miscarlo una parte che non si lega da un lato, vi do la mix right now. Oggi viene, e adesso, cosa manca? Che skill manca? Abbiamo il basilico, dei basil, e il basilico, un po' di pepper, c'è un pepper? E attenzione, ragazzi, sta arrivando l'entro. Eccola, signori, è arrivata la pasta italiana, la conoscete bene? Pasta varilla, perché dove c'è varilla c'è? Bravi! E allora guardate come si dice a casa, butta la pasta, mamma! Mamma, butta la pasta che sta arrivando. Guardate, la pasta italiana, siamo quasi pronti. Naturalmente l'andremo anche a assaggiare, il volontario sarò io, l'assaggio io, scusate. I will taste pasta. E andiamo, attenzione, adesso con la mozzarella. Cosa? Cosa? Il parmigiano, the parmesan cheese, che è so parmigiano. Guardate, che buono, che buono, che buono. Very, very much. Senti, buono. E adesso, ragazzi, qua e dove vediamo l'esperienza. Right here, we're going to show the experience. Senti, now we're going to show the experience. Ora è il momento cluno di questa bella esperienza, naturalmente, della decorazione. La decorazione con l'impiattamento. Vediamo, chef, vai, vai. Guardate bene, guardate bene, viene bene l'arte, ragazzi, l'arte culinaria del nostro chef Lorenzo. Wow! Guarda la signora, buono, eh? Attenzione. La pasta, il radicchio, le noci. Cosa può mancare? Allora, lo tappenano? No, no. Cos'è, lo tappenano, questo? Allora, il parmigiano, vedi? No, che è il parmigiano. La panna. E ragazzi, è pronto. Isveri è preso nella pasta italiana. Del mezzo di mani che ti ha radicchio. E tre. Di mezzo di mani che ti ha raggiunto la pizza. Eee? Yeah, è che tapp notably il nostro chef. Attenzione.